cari amici un saluto buonasera per tutte le novità sul milan iscrivetevi al canale perché qui ci sono notizie notizie che riguardano il campo il calciomercato lo stadio insomma tante novità partiamo da milanello perché si avvicina la partita contro il napoli questo scontro al vertice fondamentale per la corsa scudetto il milan va al maradona lo stadio maradona di napoli ad affrontare la scuola del luciano spalletti probabilmente senza ibra e romagnoli facciamo il punto qual è la situazione oggi allenamento al pomeriggio al centro sportivo di milanello la squadra si è allenata ha svolto la consueta esercitazione in campo e tra i giocatori in campo non c'erano né Zlatan Ibrahimovic e né Alessio Romagnoli Zlatan Ibrahimovic è assente dal 23 di gennaio dai campi da gioco l'ultima partita giocata contro la Juventus 0 a 0 a San Siro uscito nel primo tempo da quel momento lì sta combattendo contro un'infiammazione al tendine d'Achille probabilmente nel corso degli allenamenti è subentrato anche qualche altro dolorino ad altre parti del corpo però sostanzialmente ancora oggi allenamento personalizzato per Ibra che si è allenato addirittura in palestra quindi allenamento dentro la palazzina a milanello in palestra per Zlatan Ibrahimovic che a questo punto difficilmente ci sarà contro il Napoli così come Alessio Romagnoli che però ha l'esame che ha effettuato ieri ha escluso lesioni questo è molto importante ha un problema all'adduttore ma non ci sono lesioni questo è fondamentale per un recupero un po più breve di Alessio Romagnoli che però anche lui è a rischio presenza a Napoli vedremo domani nella giornata di venerdì se ci saranno miglioramenti per Ibra e Alessio Romagnoli per il capitano del Milan ma al momento ci sembra che sia abbastanza difficile la loro presenza contro il Napoli e veniamo alle notizie di calciomercato perché in questi giorni ho approfondito con fonti del nord Europa la questione Masraoui e mentre indagavo sul terzino destro che interessa ancora al Milan anzi vi invito a vedere il video di questa mattina dove ne parlo in maniera specifica ho anche appreso che il Milan oltre ripeto a Masraoui ha avuto dei colloqui dei sondaggi con alcuni intermediari che hanno proposto al Milan un giocatore del Liverpool il giocatore del Liverpool si tratta di un attaccante e nello specifico di Orighi Orighi attaccante belga 26 anni del Liverpool in scadenza di contratto al 30 giugno del 2022 quindi si tratterebbe di un'offerta del giocatore per quando andrà in scadenza nel senso che i procuratori hanno proposto Orighi per giugno per quando insomma andrà via dalla Premier League dal Liverpool e anche il Milan è stato contattato anche perché tra procuratore e intermediari si sa che il Milan vorrebbe fare una punta in estate e quindi è giusto anche che vengano vengano proposti giocatori poi sarà il club a valutarne da quello che sappiamo Maldini e Massara non è che sono come dire hanno sicuramente fatto salti di gioia quando gli è stato proposto Orighi nel senso che non è un nome che scalda tanto la dirigenza però insomma c'è un ventaglio di nomi sul tavolo la dirigenza del Milan li sta analizzando sia Belotti sia Orighi ma anche altri che ancora non abbiamo scoperto o che non sono ancora usciti a livello mediatico sappiamo anche che lo scout sta aiutando Maldini e Massara a proporre attaccanti interessanti per l'estate perché il Milan vuole farlo un attaccante in estate questa è la cosa che più deve rallegrare il tifoso del Milan i rossoneri vogliono rinforzare il reparto avanzato indipendentemente dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic se ci sarà o non ci sarà il rinnovo il Milan vuole comunque prendere una punta e ripeto è stato offerto Orighi che non sta giocando tanto a Liverpool tra l'altro un gol ha messo a segno in Champions League quest'anno ed è stato contro il Milan a San Siro vi ricordate la rete dell'attaccante dei Reds è quindi un giocatore che sta giocando anche poco in Premier League poche presenze e pochi gol quindi sostanzialmente è un nome che proviene da un grande club come il Liverpool però potrebbe anche non essere quel profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo del Milan noi non stiamo dicendo che il Milan andrà su Orighi stiamo soltanto dicendo che tra procuratori, tra intermediari giravoce che è stato offerto al Milan anche Orighi è stato fatto un colloquio nelle scorse settimane per la punta del Liverpool e chissà magari se questo colloquio ha portato a qualcosa di fruttuoso, di buono per l'estate al momento sembra di no ma magari i contatti verranno riallacciati anche più avanti insomma testimoniamo solo il fatto che Orighi è stato proposto ai rossonini l'attaccante del Liverpool in scadenza di contratto a giugno quindi abbiamo parlato di Milanello e dell'allenamento dei rossonieri verso il Napoli abbiamo parlato di calciomercato ora parliamo anche di stadio perché c'è stata un'importantissima apertura del sindaco di Sesto San Giovanni per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter proprio a Sesto e questo è importante, questo è molto importante perché il Milan sta riscontrando difficoltà nell'andare avanti, nel far procedere i lavori a San Siro nella zona di San Siro per il nuovo stadio da quello che purtroppo emerge dal comune di Milano ci sono sempre degli ostacoli burocratici tempi che si allungano evidentemente Milan e Inter sono anche un po' stufe di dover sempre rimandare aspettare e affrontare nuove problematiche quindi nei giorni scorsi è emersa anche la possibilità che le due società milanesi potessero sfruttare uno spazio di terreno a Sesto San Giovanni per costruire lì lo stadio è intervenuto al quotidiano libero il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano e ha parlato così ha detto le due società devono solo bussare alla mia porta l'amministrazione comunale ha già dato la propria disponibilità lo spazio per realizzare l'impianto c'è e i tempi sarebbero molto più veloci che a Milano quindi è proprio un invito a Milan e Inter di costruire il nuovo impianto sportivo a Sesto San Giovanni una importantissima apertura c'è grande disponibilità da parte del comune di Sesto ad ospitare l'impianto sportivo nuovo che dovrebbero costruire Milan e Inter non ci dimentichiamo che sarà un impianto dal costo di oltre un miliardo di euro verrà ovviamente la spesa condivisa dalle due proprietà cinesi cinesi e americana di Inter e Milan ma la cosa importante è che se dovesse farsi il nuovo stadio darebbe non solo nuovi posti di lavoro a tanta gente ma andrebbe anche a riqualificare la zona attorno a cui si svilupperà lo stadio quindi sarebbe anche un peccato per il comune di Milano perdere i due club che andrebbero a giocare fuori Milano e soprattutto non riqualificare una zona come quella di la zona San Siro che meriterebbe sicuramente maggiori attenzioni e un qualcosa in più sinceramente non capisco nemmeno l'atteggiamento del comune che sta per farsi sfuggire una grande occasione e tra l'altro se San Siro dovesse rimanere lì dov'è la gestione verrebbe accollata totalmente al comune che dovrebbe pagare oltre 10 milioni di euro all'anno solamente per gestire lo stadio e sarebbe quindi un grave danno economico anche per il comune di Milano quindi non so quanto convenga al comune di Milano temporeggiare ancora oltre Milano e Inter davvero hanno spettato forse fin troppo però ora è il momento delle decisioni ora è il momento di tracciare una linea o si costruisce lo stadio accanto a quello di San Siro quindi a Milano o si va fuori Milano perché anche il sindaco di Sesto ha aperto totalmente le porte per la costruzione del nuovo impianto ci vediamo domani mattina per altre notizie di calciomercato calcio giocato e anche altre notizie extra campo sempre sul mio canale YouTube se volete insomma iscrivetevi in tanti a presto